Mi chiamo Michela, ho 19 anni e sono molto contenta che il Papa abbia ricordato che lavoro a una vocazione che porta alla santità. Io fin da piccola volevo fare la cuoca, adesso il mio sogno si sta realizzando. Ogni volta che entro in cucina e incomincio a lavorare, cerco di curare quei piccoli dettagli, quelle piccole cose che sono gradite a Dio. Sono molto consapevole anche del fatto che la quotidianità ha un valore molto grande che porta alla santità.